Conosciuta al grande pubblico, oltre che per le sue qualità artistiche, anche per aver sposato il cantatore napoletano Gigi D'Alessio. Stiamo parlando di Anna Tatangelo, che alla prossima edizione del Festival di Sanremo presenterà il brano Libera. Originaria di Sora, la Tatangelo inizia dal 1994, quando è ancora una bambina, a partecipare a diverse manifestazioni canore, sia regionali che provinciali. La passione per la musica è veramente grande e decide di approfondire gli studi presso l'Accademia Musicale di Sora, presso la quale svolge attività concertistica nel coro giovanile. Nel 2012, a soli 15 anni, partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Giovani, conquistando il primo posto con il brano Doppiamente Fragili. Nasce nel frattempo la collaborazione artistica con Gigi D'Alessio, con il quale duetta nel brano Un nuovo bacio, e con il quale interpreta la colonna sonora Il mondo è mio, del film di animazione Aladdin. Contemporaneamente alla terza partecipazione al Festival di Sanremo nel 2005, esce il secondo album della cantante, dal titolo Ragazza di periferia, dopo quello del 2003, Attimo per Attimo. Il debutto della Tatangelo come attrice avviene nel 2007 con il terzo album Mai dire mai. In questi anni la cantante partecipa a diverse iniziative di carattere socio-umanitario, tra cui ricordiamo quella al mega concerto allo Stadio San Siro di Milano in favore delle vittime del terremoto dell'Aquila del 2009. Al 2010 risale la partecipazione al noto talent show X-Factor in veste di giudice, un'esperienza che la Tatangelo ha più volte affermato e se è stata molto importante nel suo percorso artistico. Nel 2012 invece la giovane cantante partecipa come concorrente all'ottava edizione di Ballando con le stelle, dove in coppia con il ballerino Stefano Di Filippo riscuote un grande successo e conquista la terza posizione. Dalla storia d'amore con il compagno Gigi D'Alessio nasce poi il successo televisio Questi Siamo Noi, un varietà che viene eseguito da più di 4 milioni di telespettatori e che si avvale della partecipazione di numerosi artisti, tra cui ricordiamo Alessandra Moroso, Roberto Vecchioni, Paolo Bonoris e Biagio Izzo. In questo momento Anna è impegnata nella registrazione di About Love, un programma che condurrà insieme ad Alvin dal prossimo aprile. Il brano libera che verrà presentato alla prossima manifestazione canora anticipa l'album omonimo in uscita il 12 febbraio. Speriamo quindi che la Tatangelo sappia ancora una volta stupire il pubblico che la segue ormai da tanti anni, in particolar modo quello particolarmente esigente dell'Arison.